Dopo diversi mesi finalmente ho avuto modo di recuperare questo film, un film che avevo adocchiato già da tempo, già dalla cerimonia dei Golden Globe, perché? Perché una delle attrici presenti in questo film, una grandissima attrice, ha vinto, proprio grazie alla prova in questa pellicola, il Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Adesso sigla e poi ne parliamo. Ed allora, bentrovati in questa nuova video recensione, finalmente torno a parlare anche di un film inedito, di un film recentemente uscito, in questo caso nelle piattaforme di streaming, nel momento in cui sto registrando e pubblicando questo video, lo potete trovare su Prime Video. È un film, come dicevo, che aspettavo da diverso tempo, mi incuriosiva sia per quella che è la tematica, e vedremo, sia appunto perché è presente una grandissima attrice, Jodie Foster, che ha vinto il Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Poi, in realtà, non ha avuto più modo di partecipare anche alle altre cerimonie, però da quel momento questo film in qualche modo mi ha attirato, ha attirato la mia attenzione, finalmente ho avuto modo di vederlo. Stiamo parlando chiaramente di The Mauritanian. Prima di continuare, però, come sempre, io vi invito ad aiutarmi a far crescere ancora di più questo mio canale, come già state meravigliosamente facendo, con un gesto rapido e semplice, cioè iscrivendovi nel caso in cui non siete ancora iscritti. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e poi attivate anche la campanella, così YouTube vi manderà le notifiche ogni volta che io pubblicherò un nuovo video. Per voi è un gesto rapido, semplice, ma come sempre vi dico, per me è davvero molto, molto importante che voi lo facciate, quindi vi ringrazio di cuore se deciderete di iscrivervi al canale. Ed allora, The Mauritanian, di cosa parla questo film? È un film che si rifà ad una storia vera, ad una storia realmente accaduta, tanto che infatti racconta la storia di Mohamedou Salih, ora la pronuncia sarà probabilmente sbagliata, ma mi vorrete perdonare, è un uomo che è stato tenuto prigioniero per più di 12 anni all'interno di quello che è il carcere di massima sicurezza di Guantanamo, carcere statunitense presente a Cuba, per più di 12 anni, senza, tra l'altro, avere mai ricevuto un'accusa formale per qualche cosa. Tra l'altro, il film ce lo fa capire, e lo lo fa capire anche fin da subito, non è uno spoiler perché è la realtà dei fatti, a Guantanamo sono presenti tanti prigionieri e la maggior parte di questi viene tenuta, appunto, incarcerata all'interno di questa prigione, proprio senza essere stati mai accusati formalmente di qualcosa, ma solamente sulla base di sospetti, sulla base di prove aleatorie, chiaramente riguardanti quelle che sono le attività terroristiche, però, ripeto, senza mai ricevere necessariamente un'accusa formale. Anche Mohamedou viene incarcerato all'interno della prigione di Guantanamo per più di 12 anni e sarà costretto a rimanere all'interno, all'interno di questa prigione, tra l'altro, tra l'altro, in condizioni che sono davvero disumane, ed è proprio questo che ci vuole far mostrare il film. Tra l'altro, la sua causa, la sua situazione, viene sposata da un avvocato, interpretato, appunto, da Jodie Foster, che decide, appunto, di combattere la causa di Mohamedou, sia per dimostrare quella che è, verosimilmente, l'innocenza di quest'uomo, che, tra l'altro, ricordiamolo, era sospettato di essere stato il principale reclutatore di quelli che poi sono stati i terroristi coinvolti nell'attentato, negli attentati, anzi, dell'11 settembre, quindi è un film, da questo punto di vista, anche tremendamente attuale, è vero che parla di qualcosa di ormai 20 anni fa, perché, ricordiamolo, gli attentati sono stati nell'11 settembre del 2001, quindi ormai sono passati quasi 20 anni, ma è anche vero che sono stati degli attentati che hanno stravolto l'esistenza dell'intero pianeta, fino ad oggi. Quest'avvocato, dicevo, decide di sposare la causa di Mohamedou, ma allo stesso tempo decide anche di portare avanti una battaglia nei confronti del sistema americano, nei confronti di questo carcere, di questa prigione, che risulta essere una stortura di quello che è il sistema democratico americano, proprio perché all'interno della prigione di Guantanamo vengono in qualche modo perduti anche tutti quelli che sono i principali diritti fondamentali dell'uomo e le persone imprigionate lì dentro, per quanto possano essere chiaramente anche coinvolte, probabilmente, in atti terroristici, vengono sottoposti a tutta una serie di pratiche disumane, che tra l'altro, nella maggior parte dei casi, possono anche portare alla confessione di reati non necessariamente veri, nel senso possono portare alla confessione di qualcosa che non risponde a verità, ma soltanto dettata dallo sfiancamento, dallo sfinimento di quelle che poi sono delle vere e proprie torture. Quindi quest'avvocato decide di, chiaramente, portare avanti questa battaglia legale, sia, chiaramente, a favore di Maomadu, ma proprio a favore di un sistema, a favore, purtroppo, contro un sistema fondamentalmente marcio per quanto riguarda, chiaramente, la prigione di Guantanamo. Io, chiaramente, non vi rivelo nient'altro per quanto riguarda la trama del film, per quanto riguarda la storia, perché, è vero, sì, è una storia realmente accaduta, quindi il rischio spoiler sarebbe relativo perché basterebbe davvero fare una ricerca, come sempre dico, su Wikipedia, però io la storia non la conoscevo prima di guardare questo film, quindi, per quanto io avessi, chiaramente, delle notizie riguardanti Guantanamo, per quanto io sia a conoscenza di tante cose che, purtroppo, succedono all'interno di quella prigione, però questa storia non la conoscevo, quindi, probabilmente, la maggior parte di voi non la conosceranno neanche, quindi, se non avete recuperato il film, non voglio spoilerarvelo in alcun modo. Come dicevo, è un film che mi ha davvero incuriosito fin da subito per la tematica, per la presenza di Jodie Foster e ha rispettato tutte, tutte le attese, perché è davvero un grande film. È un film, tra l'altro, che riesce a, in qualche modo, comunicare allo spettatore quella che è anche, mi vien da dire, la morale, o comunque quello che è il messaggio di fondo, che è quello che abbiamo detto, appunto, quindi non soltanto il fatto che ci sia stato un solo uomo in realtà innocente, imprigionato per 12 anni, perché in realtà è l'esempio, Maomadu è chiaramente l'emblema, l'esempio di questa stortura del sistema, ma, appunto, il film ci fa capire proprio davvero come uno stato che fonda, comunque, la sua esistenza, fin dall'inizio, sulla democrazia, gli Stati Uniti d'America, che rappresentano davvero l'emblema della democrazia fin dalla loro nascita, in realtà, anche in una nazione come questa, esiste una sorta di, come dire, buco nero, mi verrebbe da dire, della democrazia stessa, ma in realtà anche proprio dei diritti umani, dell'umanità, nella prigione di Guantanamo, proprio perché lì, lì dentro, in qualche modo, si viene a creare una sorta di universo all'interno della nazione, della nazione americana, ed è una stortura atroce, è una stortura davvero raggelante per quello che succede all'interno della prigione. Ora, devo dirlo, ci sono alcune sequenze che comunque risultano essere abbastanza d'impatto, però non si vede niente di particolarmente violento all'interno di questo film, quindi è un film che mi sento di consigliare fondamentalmente a tutti, anche a chi magari non dovesse essere particolarmente in grado di sopportare scene violente, non se ne vedono tantissime, ci sono più che altro dei flash qui e lì, durante, appunto, la descrizione della prigionia di Muhammadu, soprattutto quando, attraverso dei flashback, si va a ripercorrere quella che è stata una fetta importante della vita di Muhammadu all'interno di Guantanamo, perché è rimasto 12 anni lì dentro, fondamentalmente, però, ripeto, non ci sono scene esageratamente violente, però, nonostante tutto, ci sono comunque questi flash che vengono resi, tra l'altro, in maniera ottimale, perché sembrano quasi delle scene psichedeliche, delle scene allucinate, che ci fanno capire, davvero, che cosa possa significare rimanere imprigionati all'interno di Guantanamo, soprattutto, poi, chiaramente, quando si è innocenti, perché fondamentalmente, o perlomeno quando non c'è un'accusa ben precisa nei confronti del, diciamo, di colui che viene incarcerato. Il film questo lo rende meraviosamente, tra l'altro, questo viene reso possibile anche grazie, oltre ad una buona sceneggiatura, ripeto, è una storia vera, tra l'altro, il film lo fa capire anche dopo, ripeto, non è uno spoiler, perché è facile intuire come le cose siano andate così, è presente un libro, una sorta di autobiografia di Muhammadu, che racconta, chiaramente, quella che è stata la sua fase, purtroppo, di prigionia all'interno di Guantanamo, il film prende spunto proprio dalla biografia di quest'uomo e riesce, ripeto, a rendere alla perfezione, purtroppo, quella che è stata la sua vita all'interno della prigione di Guantanamo. Tra l'altro, la cosa raggelante è che i prigionieri, purtroppo, sono anche costretti, in qualche modo, a non riuscire sempre ad aprirsi, anche con i propri avvocati, che sono coloro che sono deputati a difenderli, quindi anche a farli uscire, eventualmente, da Guantanamo. Perché? Perché hanno il terrore cieco che è tutto questo, per quanto sia un loro diritto, perché essere assistiti da un avvocato è un diritto inalenabile, è un diritto che spetta a tutti, anche ai peggiori delinquenti, quindi anche ai terroristi. In realtà hanno paura, i prigionieri di Guantanamo, che il fatto di, in qualche modo, aprirsi nei confronti dei propri avvocati possa poi portare a subire delle ritorsioni, da parte dei carcerieri, da parte, quindi, di coloro che lavorano all'interno della prigione di Guantanamo, nei giorni a venire. E quindi questo significa che anche, appunto, il diritto fondamentale di essere assistiti da un avvocato in sede legale viene, in qualche modo, calpestato. Quindi, davvero, è una gigantesca stortura del sistema democratico americano, la prigione di Guantanamo. E la cosa è che, in qualche modo, il film ci stimola nella riflessione, che davvero anche delle persone che hanno commesso dei reati indicibili, inenarrabili, come possono essere, appunto, gli attentati dell'11 settembre, o comunque persone sospettate di aver portato avanti delle attività terroristiche, sono delle persone che devono essere, in qualche modo, escluse totalmente dalla vita, devono essere, in qualche modo, allontanate da ogni forma di diritto umano? No, non è così, perché, altrimenti, anche noi stessi, ci metteremo al loro livello, sul loro livello, ci metteremo sullo stesso livello di coloro che hanno portato la morte nei nostri paesi. Quindi, quello che ci fa capire il film, fondamentalmente, quello che ci fa capire anche la vicenda di Muhammadu, è che, soprattutto poi quando qualcuno è innocente, si deve, comunque, sempre garantire la possibilità di difesa, bisogna sempre garantire anche il rispetto dei diritti umani, ripeto, anche nei confronti di coloro che hanno perpetrato dei reati inenarrabili, di una crudezza allucinante, come possono essere gli atti terroristici. Il film, tra l'altro, è un ottimo film, secondo me, oltre che per la sceneggiatura, anche per quello che è il comparto attoriale. Abbiamo la presenza di vari attori nei vari ruoli principali, Jodie Foster, chiaramente, in quella dell'Avvocato, che ha portato avanti la causa di Muhammadu. Il film funziona anche da un punto di vista registico e di montaggio, registico soprattutto perché viene resa, secondo me, in maniera meravigliosa, l'alternanza tra quella che è la fase del presente, cioè la fase in cui l'Avvocato sposa la causa di Muhammadu, e la porta avanti nel corso degli anni, e alternandola a quelli che invece sono i flashback di tutta la vita, diciamo, passata all'interno della prigione da parte di Muhammadu, proprio con queste sequenze molto spesso allucinate, psichedeliche, e, tra l'altro, rese anche con un formato visivo diverso, una sorta di quattro terzi rispetto al 16 noni della parte rimanente del film. Ecco, quindi, ottima da un punto di vista della regia questa pellicola, ottimo anche il montaggio, in alcuni momenti anche abbastanza serrato, proprio per andare in qualche modo a comunicare questo senso di angoscia, di ansia vissuta da Muhammadu all'interno della prigione. Davvero, un ottimo film. Io non ho trovato particolari sbavature, un film che scorre via, dura anche più di due ore, perché dura due ore e dieci all'incirca, ma non si fa sentire in alcun modo la durata, quindi molto interessante da questo punto di vista, una storia molto interessante, e poi, nella parte finale del film, come sempre succede nei film biografici, c'è anche un appendice, che vi consiglio di non perdervela, perché è durante i titoli di coda, con i veri personaggi, mettiamola così, quindi con quelli che sono stati i veri, Muhammadu, il vero avvocato, tutto quello che poi ha portato anche alla realizzazione di questo film, l'autobiografia di cui vi parlavo prima. Quindi, davvero, un film che mi ha conquistato, che mi ha convinto, che ha rispettato tutte le attese, quindi è un film che, come dicevo, mi incuriosiva parecchio, ed è stato in grado di suscitare in me delle piacevolissime sensazioni, chiaramente piacevoli, nel senso che il film è stato soddisfacente, per quanto, chiaramente, rivada a raccontare una storia raggelante, che però ci deve far riflettere, ci deve far riflettere ogni giorno su quelle che possono essere, purtroppo, ripeto, le carenze, le storture, le defaianze, questi buchi neri che si creano in un sistema democratico apparentemente infallibile, apparentemente infallibile, come può essere, appunto, la nazione americana, che fa della democrazia, che fa del rispetto dei diritti umani, uno dei suoi punti cardine, quando in realtà, però, non sempre questo succede, e lo sappiamo anche per quelle che sono le vicende attuali, ed è, infatti, un film straordinariamente attuale per questo motivo. Quindi, questo era quello che io vi volevo raccontare del film The Mauritanian, con Jodie Foster. Io, come sempre, vi invito a lasciare quella che è la vostra opinione, nel caso in cui abbiate visto il film, quindi scrivetela qui sotto tra i commenti, perché sono curioso di capire che cosa ne pensiate, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo film qui sotto. Io vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, qualora non l'abbiate ancora fatto. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, ad una prossima video recensione, oppure anche nella mia pagina Facebook, Doctor Cinema, alla quale vi consiglio di iscrivervi. Vi auguro, come sempre, una buona continuazione di giornata, e ci vediamo presto. Ciao a tutti.